Ciao a tutti, sono Dario Masella, chef di Restocchio Lombardia. Oggi stiamo testando un nuovo prodotto gelo che vi permetterà di preparare i vostri risotti in 5 minuti. Partiamo con una base di soffretto e il prodotto gelo viene messo direttamente nel soffretto, quindi andiamo a tostare leggermente dallo scalogno. Ho preparato il nostro fondo, andiamo a versare il prodotto nella padella direttamente. Facciamo insaporire, per qualche minuto. Andiamo a sfumare con dello sfumante. Facciamo evaporare la parte alcolica. Una volta sfumato il nostro vino, il nostro sfumante, andiamo ad aggiungere del brodo vegetale. Arrivati alla cottura desiderata, spegniamo, togliamo dal fuoco e andiamo a mantecare con del burro ben freddo. e del parmigiano. Iniziamo la mantecatura del nostro riso, cominciando a farlo diventare cremoso, quindi facendo uscire l'amido dal tipo. Il riso deve risultare all'onda. All'inizio si aggiunge un filo di brodo. Andiamo a sottotitoli di sale. E andiamo ad aggiungere delle zeste di lime, per rinfrescare il gusto. Continuiamo la mantecatura. Si lascia riposare per alcuni minuti e poi si può iniziare il servizio. Grazie a tutti, da Argo Chef Dario Masella di Cristo Più Lombardia. Grazie a tutti.